Napoleone Bonaparte Seconda parte, la fine Nel 1811 l'impero di Napoleone è raggiunto alla sua massima espansione, sia nei domini diretti della Francia, sia negli stati vassalli allegati a Napoleone. Perfino l'Austria e la Prussia, oltre ad essere notevolmente ridimensionate, avevano dovuto accettare di allearsi con lui. Soltanto la Gran Bretagna rimaneva irriducibilmente ostile. Il blocco continentale e il controblocco inglese avevano creato grosse difficoltà all'economia di entrambi gli stati. L'unica soluzione per la Francia sembrò essere quella di estendere il blocco continentale a tutti i paesi neutrali d'Europa. Questo però portò ad un aumento della tensione con l'unico paese non ancora abbattuto da Napoleone, la Russia. Lo zar di Russia, Alessandro I Romanov, era estremamente irritato per le conseguenze economiche del blocco continentale sull'economia del suo paese. Inoltre si esce conto che Napoleone stava spostando le truppe del suo esercito verso l'Europa orientale. Pertanto Alessandro I inviò un ultimatum a Napoleone intimandogli di ritirare le sue forze. Napoleone rifiutò e così scoppiò la guerra. Nel 1812 Napoleone, con un enorme esercito di 700.000 soldati, iniziò ad invadere la Russia. Era l'esercito più grosso che avesse mai radunato, ma anche quello meno francese. Soldato 300.000 soldati provenivano dalla Francia. Gli altri erano italiani, tedeschi, polacchi, provenivano insomma un po' da tutta Europa. Con queste forze Napoleone riuscì a vincere a Smolensk e a Borodino. Ma il nuovo comandante russo, Kotuzov, inizia una strategia particolare. Si ritirò sempre di più verso l'interno, evitando di dare battaglia e allontanando progressivamente Napoleone dalle sue basi. A ridosso dell'inverno Napoleone riuscì a prendere la capitale, Mosca, che venne anche incendiata nel corso del saccheggio, ma non riuscì a battere l'esercito russo. E non trovò neanche a Mosca i delegati dello zar pronti a trattare la pace con lui. Pertanto fu costretto in pieno inverno a iniziare la ritirata verso le sue basi in Polonia. Nel corso della ritirata apperse moltissimi uomini a causa della fame, del freddo e degli attacchi russi sia dell'esercito sia della guerriglia che si era formata contro di lui. Dovendo ripercorrere la strada già abbattuta all'inizio della campagna, non trovò più viveri da saccheggiare in quanto i saccheggi erano già avvenuti e questo aumentò il numero delle sue perdite. Arrivato quasi al confine polacco, lo scontro più atroce avvenne per il passaggio del fiume Beresina. Qui poco più di 30.000 soldati in Napoleone riuscirono a costruire due ponti e ad attraversare il fiume. Napoleone riuscì a rientrare in Francia ma il suo esercito era abbattuto e un enorme catastrofe si era scatenata contro i francesi. A questo punto tutti i paesi d'Europa si unirono nuovamente in una sesta coalizione. Austria, Prussia, Russia e Svezia in particolare riunirono quasi 300.000 soldati e nel 1813 Napoleone riuscì a contrapporre soltanto la metà di questi uomini, venendo battuto nella battaglia di Lipsia, la battaglia detta delle nazioni, per l'enorme numero di nazionalità che vi furono coinvolte. Sconfitto e inseguito in Francia, Napoleone fu obbligato dai suoi stessi generali e dai funzionari dell'impero ad abdicare. Ottenne dai paesi vincitori di potersi collocare nell'isola d'Elba come il suo piccolo dominio personale. Nel frattempo i delegati dei grandi e piccoli paesi europei si riunirono a Vienna per definire la nuova carta politica d'Europa e per anche mappare, oltre ai confini, anche i rapporti di forza fra le grandi potenze. In Francia venne restaurato il fratello del re decapitato, anche lui di nome Luigi, Luigi XVIII. Non era proprio una personalità particolarmente avvincente come Napoleone, promise ai francesi la tranquillità, però non riuscì a ottenere subito un particolare amore dei suoi nuovi sudditi. Napoleone, nella sua villa nell'isola d'Elba, non si fidò tantissimo dei suoi ex nemici e così a un certo punto decise di fuggire. Le truppe mandate contro di lui, una volta sbarcate in Francia, si ammutinarono e si schierarono nuovamente dalla sua parte. Erano quasi tutti i suoi ex soldati e così Luigi XVIII dovette fuggire e lasciarli nuovamente alla Francia. Napoleone riuscì a costituire un nuovo esercito, ma contro di lui si formò una settima coalizione. Lo scontro decisivo avvenne a Waterloo. Qui l'esercito francese si scontrò contro gli inglesi, ma l'arrivo improvviso delle truppe prussiane provocò la catastrofe. I francesi vennero assonoramente battuti e Napoleone dovette a questo punto rinunciare a qualsiasi ambizione di dominio sulla Francia e sull'Europa. Si consegnano pertanto agli inglesi che lo relegarono in una piccola isola nel sud dell'Atlantico, l'isola di Sant'Elena, dove è vista ancora per alcuni anni e morì il 5 maggio 1821. Nel